Anteprima del nostro telegiornale, bentrovati, vicenda Porto in apertura del notiziario, vi riferiremo della presa di posizione da parte dei rappresentanti dei comitati del Porto Rifugio di Gela, previste manifestazioni di protesta pacifiche, sabato scorso riunione nei locali dell'Hotel Sileno per studiare le linee guida contro il mancato inizio dei lavori di dragaggio del Porto. Apriremo anche la pagina della cronaca nera riferendovi del tentato omicidio avvenuto in pieno centro storico a Riesi, un pastore ha dato fuoco ad un cittadino rumeno. Torneremo a Gela per riferirvi della proposta del capogruppo consigliare del megafono Sara Bonura al fine di affidare ai privati le aree incolte del comune. Parleremo anche di teatro e sport, l'approfondimento a questo e a molto altro tra breve nel nostro telegiornale, vi aspetto in studio tra poco. Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentornati al consueto appuntamento con il Tg10, vicenda porta in apertura del telegiornale. Vi riferiamo della presa di posizione da parte dei rappresentanti dei comitati del Porto Rifugio di Gela. Previste manifestazioni di protesta pacifiche sabato scorso, riunione nei locali dell'Hotel Sileno per studiare le linee guida contro il mancato inizio dei lavori di dragaggio. Al Porto vediamo. Adesso è giunta l'ora di farsi sentire. I tavoli tecnici, gli incontri e soprattutto gli impegni al momento non mantenuti hanno indotto i rappresentanti dei comitati del Porto Rifugio di Gela a scendere in campo. La marineria, hanno detto, è al collasso e sta morendo tra l'indifferenza della politica. Il comitato del Porto non è solo il comitato del Porto di singole persone, ma è il comitato della città, dove praticamente tutti possono intervenire e devono intervenire per far sentire la nostra voce. Perché dobbiamo far capire a questi signori politici che il porto di Gela è della città, non è solo un bacino di voti, ma è un porto che serve alla città. Quindi la riunione ha avuto un ottimo risultato per noi. Speriamo che adesso faremo sentire veramente la nostra voce, perché siamo per indire anche degli scioperi in oltranza, chiuderemo il porto e poi vedremo che cosa fare, ma qualcosa sicuramente faremo. Ci faremo sentire sicuramente e seriamente. Se per 40 anni siamo ridotti a questo punto, credo che comunque la politica abbia maggiori responsabilità, perché non ha rappresentato le esigenze dei lavoratori, dei cittadini, tutto ciò che opera lì, la portualità di Gela. Quindi chiamare politici e non chiamare nessuno a questo punto. Per questo non abbiamo voluto la loro presenza, anzi, credo che si sarebbe perso altro tempo. Ci siamo resi conto che la cittadinanza è con noi, i cittadini sono con noi, i cittadini vogliono fortemente questo porto a Gela, quindi assieme a loro ci stiamo organizzando per poter dare luce finalmente a questo porto, poter portare a conoscenza tutto quello che succede e tutto quello che è successo all'interno di questo porto per gli anni passati e gli anni che si sono stati. Spero a più presto di poter dare dati dove poterci riunire per cercare di fare questa protesta tutti assieme. Adesso apriamo la pagina della Corona Cannera riferendovi del tentato omicidio avvenuto in pieno centro storico a Riesi. Un pastore ha dato fuoco a un cittadino rumeno. Vediamo. L'accusa è pesantissima, tentato omicidio aggravato mediante aggressione con liquido infiammabile e successivo incendio. Protagonista della vicenda scoperta da Carabinieri è un pastore riesino di 20 anni con piccoli precedenti per droga. Si tratta di Vito Emanuele Ciccia Romito. L'episodio si è verificato sabato nel centro storico della cittadina Nissena. Intorno alle due i militari dell'arma sono stati allertati da una segnalazione di un soggetto che era stato dato alle fiamme in piazza Garibaldi all'angolo con Corso Vittorio Emanuele. Giunti immediatamente sul posto i carabinieri hanno trovato un cittadino romeno di 41 anni che stava per essere trasportato dall'ambulanza presso l'ospedale di Mazzarino. Sullo suo corpo era stato gettato addosso della liquido infiammabile da parte di un giovane che si era dato la fuga nelle vie limitrofe. Il rumeno, vittima dell'aggressione, presentava numerose ostioni gravi su tutto il corpo ed immediatamente è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania in gravissime condizioni. I militari dell'arma hanno tentato immediatamente di capire notizie sull'accaduto dai presenti e dall'analisi dei sistemi di videosordiglianza, individuando il giovane pastore come autore del fatto. Tradotto in caserma, Vito Emanuele Cicciaromito è stato dichiarato in stato di arresto ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza sullo stesso. I motivi della gravissima aggressione mediante liquido infiammabile sono tuttora al vaglio degli investigatori. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Riesi la scorsa notte hanno denunciato per ricettazione di un fucile un imprenditore agricolo, Riesino, di 33 anni. Nel corso del controllo del territorio i militari sono intervenuti in contrada a Brigadieci, dove in aperta campagna erano stati uditi da alcuni residenti colpi di arma da fuoco. I militari hanno intercettato l'auto con a bordo tre soggetti che percorreva la strada di campagna. L'hanno fermata e hanno proceduto a immediata perquisizione personale e veicolare. È stato rinvenuto un numero consistente di munizioni, leggermente distante dall'auto all'interno di alcuni rovi, un fucile con batricola brasa. Il Riesino, verosimilmente intento alla caccia al coniglio, è stato denunciato l'arma e le munizioni sottoposte a sequestro. Cambiamo argomento. Tutti i terreni non edificabili del comune potrebbero essere gestiti da privati, associazioni e scuole. Quanto chiede attraverso un'interrogazione all'Aggiunta Messinese il capogruppo consigliare del megafono, Sara Bonura. Sentiamo. La mozione mira a dare in affidamento tutti i terreni inutilizzati e non edificabili a scuole, associazioni, aziende, attività commerciali e anche a cittadini, in modo tale che possano provvedere alla pulizia di queste aree rimaste senza manutenzione e avere dei benefici. Che tipo di benefici? A livello economico dovrebbe essere il comune a pagare i volontari? No, diciamo che non avranno un beneficio monetario, ma per le scuole e le associazioni si potrà dare queste aree per incentivare l'educazione alimentare e l'educazione ambientale, mentre le aziende e le attività commerciali potrebbero avere un ritorno d'immagine, apponendo in queste aree un proprio logo, e mentre i cittadini avranno uno sgravio della Tasi con un accordo fatto con il comune. E quando adesso il comune vi darà una risposta in merito alla delegazione che l'ha presentato? Allora, innanzitutto dovrà essere votata dal Consiglio Comunale. Dopo questo l'amministrazione dovrà provvedere a censire tutte queste aree che sono inutilizzate e incolte e provvedere a fare un mando e fare in modo che tutti i cittadini, chi ha interesse, anche le aziende, ne facciano richiesta. Anche le richieste sono numerose le aree incolte? Sono tantissime e siccome gli operatori sono pochi, nonostante un'accurata programmazione, non riescono a ricoprire tutto il territorio gelese, oltre questo non si possono fare assunzioni. Quindi per fare in modo che la nostra città possa diventare gradevole per noi e soprattutto per le persone che vengono da altre città, dobbiamo anche noi collaborare. E poi queste aree da chi saranno controllate? La mia idea sarebbe quella di essere controllate dai consiglieri comunali. Cioè mensilmente ogni consigliere comunale potrà vigilare su queste aree, perché il mio ragionamento è alquanto semplice, in quanto si farà un elenco di tutte le aree che sono state affidate. Avendo questo elenco, mensilmente i consiglieri comunali potranno vigilare affinché la manutenzione venga fatta. Al via da stasera le celebrazioni in onore di Maria Santissima d'Alemanna, patrona di Gela. Per l'occasione Monsignor Grazio Alabiso inaugurerà alle 20.30 la Chiesa Madre, che sarà restituita alla città dopo il restauro che ha interessato gli stucchi. Ogni giorno da alle 6.30 a partire da oggi fino a 7 settembre si terranno le preghiere del Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con omelia, alle 18.30 il Rosario, coroncina di Maria Santissima d'Alemanna. Domani, martedì 30 agosto alle 18, sarà dedicato alla sacralità e bellezze dell'icona, con benedizione delle icone e conclusione del corso di iconografia tenuto dall'Opera Pia Pignatelli. Mercoledì 3 agosto le confessioni dalle 18, giovedì 1 settembre alle 21, si daranno appuntamenti ai gruppi del rinnovamento dello spirito. Venerdì 2 settembre alle 7.30 esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione. Alle 18.30 Santa Messa con gli ammalati, alle 21 adorazione animata della Fraternità Apostolica. Sabato 3 settembre Eucaristia con i gruppi di famiglie e benedizione della vita nascente. Nascente, domenica 4 settembre alle 9.15, celebrazione dei Cresimanti. Alle 19.30 Eucaristia dei giovani fidanzati. Lunedì 5 settembre alle 21, liturgia con le comunità neocatecumenali. Martedì 6 alle 21, celebrazione della Santa Madre di Dio. Mercoledì alle 21, lucernari e solenni vespri della Madonna dell'Alemanna. E giovedì 8, Gela festeggia la Madonna dell'Alemanna, ricordo del rinnovamento della Sacra Icona. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10. Questa sera alle ore 21, ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Carmelo Tonelli, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia degli ospedali di Igele di Caltanissetta. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico. Nastro adesivo, penne, carta a carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, dvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozzicone di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si terrà oggi alle 20.30 presse il Club La Vela sul lungomare di Gela, la conferenza sul tema Federico II, il contesto politico e culturale medievale e le testimonianze urbanistiche a Gela e Favara. L'iniziativa è del Club per l'UNESCO di Gela. Relazionerà Filippo Sciara, studioso dell'epoca federiciana. Introdurrà i lavori Giuseppe Nicoletti, presidente del Club per l'UNESCO di Gela. Previste poesie e canti della scuola siciliana del 1250, storie medievali del cantastore etano Schifani e sfilate in costume d'epoca medievale del corteo storico Branciforti di Niscemi. Sarà di scena il prometeo incatenato, l'opera di Eschi lo approda anche a Gela. Noi siamo il gruppo archeologico Geloi, la sezione teatro. Non vediamo l'ora di mettere in scena questa tragedia che appartiene al nostro territorio, alle nostre radici storiche del nostro drammaturgo Gelesa Eschilo. La nostra intenzione è appunto recuperare la tradizione della tragedia, molto in voga decenni fa, poi spiacentemente abbandonata, e quindi è voglia, desiderio nostro di gruppo e di tutto penso di tutta la comunità riappropriarci di quella nostra identità che manifestiamo anche in questo modo attraverso il teatro, l'arte. Ci vengono in mente delle grandi elaborazioni e messe in scena di questo spettacolo grandioso, il prometeo incatenato che ha veramente scaldato le platee di tutto il mondo e anche a Siracusa con le tragedie che sono seguite da milioni di spettatori che provengono da tutto il mondo. Misurarvi con questo grandissimo progetto in esordio di questa nuova esperienza, che emozioni vi ha dato? Certo, è un campo, un settore nuovo per noi, perché finora ci siamo dedicati al campo del musical, quindi della prosa, e quindi è una scommessa penso vinta, perché ci siamo affidati anche all'esperienza del regista Biaciopardo, che ha molta esperienza appunto nel settore, e ci ha dedicato tutta la passione e la sua professionalità per istruirci al meglio. Bene, a proposito di regia, quali sono state le soluzioni di regia che avete applicato? Quanti attori saranno in scena? E soprattutto come avete adattato i testi, diciamo, al pubblico gelese? Intanto tengo a precisare che questo nostro lavoro così audace vuole essere un puncolo per la nostra città e per l'amministrazione, perché abbiamo sempre pensato che Gela, nel comprensiorio, sia l'unica città che sarebbe la più deputata a non avere ancora una stagione di teatro classico. Il prologo sarà interpretato da un attore che parlerà il lingua siciliana proprio per dare questa linea di continuità tra passato e presente. Poi ci siamo attenuti a un testo integrale, quello greco, da me tradotto. Siamo una compagnia, è vero, una sezione di teatro di elementi amatoriali, però abbiamo avuto la passione e l'entusiasmo come tutti quanti gli attori delle compagnie amatoriali e quindi ci sentiamo pronti per questo debutto. Oggi forse potrebbe essere il giorno della svolta in merito alla vicenda Gela Calcio. Il sindaco Domenico Messinese avrà dei colloqui con alcuni rappresentanti dell'imprenditoria locale interessati a rilevare il Gela. Nel caso in cui l'interesse diventasse concreto, la nuova possibile proprietà ha già in mente di chiedere alla Lega Nazionale e ai dilettanti lo spostamento almeno di una partita di campionato. Rilevare una società a responsabilità limitata non è una cosa che si fa in due giorni. C'è un gruppo tecnico da ricostruire, verificare se lo staff sarà confermato. Tanto lavoro da svolgere in brevissimo tempo. Il destino è in mano soprattutto alla vecchia proprietà. Bisognerà capire a quali condizioni economiche vuole cedere. I tifosi intanto sono divisi tra scoramento e rabbia. I tifosi della Boscaglia sono pronti a diffondere un comunicato. Chiederà a Nattuccio di cedere al club senza tentennamenti per consentire la continuità mostrando buon senso nelle richieste. Una settimana di eventi all'insegna dello sport e dell'amicizia è stata la mission ben compiuta della manifestazione Summer Asi Ex Sport che si è svolta presso il Lido Sport Center di Gela. L'evento organizzato dal Comitato regionale dell'Asi ha coinvolto diverse realtà sportive locali. Sono molto contento che si siano avvicinati a questi sport che vengono considerati o meglio detti sport minori anche i bagnanti e tutti i passanti nel lungomere di Gela per provare anche loro sia la ginnastica che gli scacchi. Anche l'Asi di Gela Scacchi è presente in questa kermesse sportiva organizzata qui allo Sport Center da Salvatore Spinello. Siamo molto contenti e felici di essere qui perché abbiamo così modo di far conoscere la nostra disciplina a chi vuole avvicinarsi a chi vuole solo per curiosità vedere in che cosa consiste. Siamo qua a lungomare con la Gymnastics Club quindi con la ginnastica artistica, con la ginnastica ritmica e col cheerleading. La cosa bella di questa occasione che ci è stata data è quella di poter far provare bagnanti e comunque tutti i presenti la possibilità di poter provare a fare ginnastica. Questo gli ha permesso di toccare con mano ciò che in genere vedono soltanto in televisione quindi un'ottima iniziativa qui a lungomare di Gela. Piacere di essere venuto qua in questo fantastico paese in questo bellissimo lungomare invitati da Walter Miceghe per venire a fare qua un po' di ginnastica insieme alle ragazzine per un momento di aggregazione, di socializzazione e il modo migliore è con lo sport e con questa fantastica disciplina che ci permette di far vedere un po' che cosa significa l'acrobatica volare. Sono aperte le iscrizioni all'ultimo corso Sabex Rec dell'anno 2016 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso autorizzato dall'assessorato regionale alle attività produttive sarà avviato il 16 settembre prossimo e si svolgerà presso la sede della Confcommercio Ascom Gela in via Cicerone al numero 104. Tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso entrano oltre il 2 settembre presso la segreteria della Confcommercio Ascom Gela da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.00 Per informazioni bisognerà chiamare il numero 0 933 93 97 18.00 Ultimo appuntamento con teatro sotto le stelle all'Arena all'aperto di Macchitella venerdì 2 settembre alle 21.30 la compagnia Antidoto porterà in scena la fortuna con la F maiuscola l'ingresso lo ricordiamo è di 5 euro a coppia è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti